Ciao creatura, io sono Alcate Splendente e benvenuta, bentornata, è il regno di Cosai, A, S, M, R Guarda c'è Palia in versione natalizia finalmente, visto che per Halloween purtroppo non hanno fatto nulla riguardo cioè non hanno fatto Palia tema Halloween e mi ha dispiaciuto tantissimo perché avrei voluto fare un video a tema e questo piccolo video è soltanto per quelle pochissime creature che seguono e che si rilassano guardando i video di Palia quindi non vi ho abbandonati, volevo solo avere qualcosa a tema per Natale da portarvi e poi avevo finito le missioni, adesso hanno messo una nuova patch, ci sono nuove missioni e una purtroppo involontariamente l'ho già fatta, adesso vediamo cosa c'è da fare e però come attività principale molto rilassante volevo realizzare insieme a te creatura che ti rilassi vedendomi giocare a Palia quindi questo video lo dedico totalmente su te e che sono veramente pochissime creature nel regno di Cosai e non voglio abbandonarvi come voi non avete abbandonato me quindi anche se ci saranno due visualizzazioni il video uscirà ugualmente come un video extra di domenica allora volevo appunto realizzare questo albero di Natale insieme a te creatura e lo realizzeremo in giardino ti faccio anche vedere, ti posso anche far vedere se vuoi la casa perché ho messo delle modifiche adesso per l'audio si è ancora addobbata da Halloween ma quelle zucche resteranno forever lì comunque ho tolto, cioè ho abbassato l'audio, la musica e ho lasciato solo l'audio dei suoni tipo degli uccellini, adesso senti degli insettini, i grilli, così così perché secondo me è la parte più rilassante spero che comunque l'audio della musica sia bassa perché la tenuta è bassissima però da quello che io sento nelle cuffie a quello che si registra cambia sempre, non so per quale motivo comunque nell'inventario ho già l'albero, l'albero feste delle luci d'inverno ho le decorazioni, la pallina e poi abbiamo le decorazioni, la candela e questa qui è la punta, puntale feste delle luci d'inverno questo puntale è una tradizione di Chilima e rappresenta la famiglia fondatrice del villaggio poi abbiamo questa decorazione in legno, molto carina e le campanelle, la campana e poi abbiamo anche qualche pacco regalo, questa cassa festa delle luci d'inverno il regalo blu, il regalo rosso e anche un regalo verde e scuotti che questo regalo pensi sia finto? fa ridere che mettono i commentini che andremo a mettere sotto l'albero e poi abbiamo anche questo mucchio, questo banco di neve che ho comprato ma penso che ne comprerò altre perché uno solo non dice nulla poi non lo so, mi hanno regalato queste palle di neve che in teoria si possono lanciare ma non ho ancora capito come si lanciano quindi poi mi serve qualcuno a cui lanciarle vabbè, dettagli lo scopriremo più avanti non è questo adesso l'importanza adesso è importante decorare l'albero insieme visto che non lo possiamo fare in una lo facciamo virtualmente in tutti i sensi ok? era totalmente virtuale visto che è un video e non siamo lì di persona però quasi quasi come prima cosa ti mostrerei la casa o facciamo prima l'albero? sei qui per fare l'albero? facciamo l'albero dopo ti mostro anche la casa perché ho fatto delle modifiche infatti come puoi vedere è grande, non so se l'altra volta che l'hai vista era così grande ho spostato anche l'orto lo ho messo di qua, di qua ho messo il mio frutteto sono alberi di mele perché non ce ne sono altri l'albero io lo metterei qui magari possiamo spostare questo stendibiancheria, cosa dici? lo mettiamo qua, lo stendibiancheria lo possiamo anche girare ecco metterei qui l'albero cosa dici vicino al laghetto? dove ci sono i quadratini è tutto territorio mio per il resto qui non posso bocciarci nulla però abbiamo tutto questo spazio anche questo però io direi che qua davanti casa più carino o lo mettiamo più qui davanti casa non lo so se fosse una live potreste rispondermi in realtà puoi comunque rispondermi perché poi io lo posso spostare in un secondo momento allora direi che intanto lo metto qua quindi davanti casa e poi dopo nei commenti mi farai sapere il tuo punto di vista allora potremmo già metterlo qui io direi che lo piazziamo qua poi dopo si vedrà ok proprio quasi davanti casa così sarebbe proprio davanti davanti casa tra virgolette insomma ecco geometricamente centrato più o meno però lo metterò un po' più spostato così per creare un po' di assimetria a me piace di più l'assimetria non mi piacciono le cose perfette allora vediamo un po' nonostante io sia pignola ma con un mio vedi dai carino no sai che lo spostiamo un po' ma tanto dopo lo sposterò in base a come mi direi tu allora spostiamolo qua che mi sembra di avere più spazio ok allora iniziamo con le palline io non sono premetto già che non sono bravissima a capire barra a coprire tutti gli spazi andiamo a posizionare le palline ci fanno vedere questi cerchietti dove possiamo posizionare che cambiano in base a dove ci ci spostiamo io direi di metterne un po' davanti un po' dietro perché qui davanti dietro non c'è perché non c'è muro e a volte si si mette l'albero in un angolo della casa vicino al muro no qua invece è bello centrale quindi non c'è non c'è fronte non c'è retro non c'è trucco non c'è inganno ok poi dove la mettiamo dove la mettiamo una qua e poi una qua ok vabbè insomma abbiamo tante altre decorazioni quindi procediamo con le campanelle che sono sempre cinque ecco vedi se la mettiamo qua poi non si vede quindi vorrei metterla dove si vede ok poi cosa sarebbe vediamo un po' qui in alto bella c'è la campanella più grande dell'altro no dai scherzo poi la mettiamo qui eh non si vede tanto aspetta dove si può mettere che si veda bene 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 qui ok poi 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 la mettiamo qui si vede si bene ok e l'ultima si potrebbe mettere qui in alto non c'è qui in alto qui qui non so se qua però si vede perché ci sono le foglie un'altra qua in basso così se il vento le fa muovere suonano non lo so nella mia testa è così andiamo a mettere le decorazioni di legno allora non c'è neanche tanta scelta per fare una cosa un po' equilibrata alla fine perché non posso proprio decidere del tutto dove metterle però mettere qua ok poi vorrei metterle qua in alto ma me le fa mettere solo o al centro o in basso forse perché sono grosse e l'ultima la andiamo a posizionare me le fa mettere una qui in alto perfetto ok si vede anche abbastanza va bene poi cosa abbiamo le candeline ok allora io le metterei una qui è troppo appiccicata all'altra ti c'è ragione dopo la togliamo aspetta non me la fanno togliere no 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 mi piace non mi piace qua allora qua si devono vedere bene che c'è già quella decorazione quindi la togliamo potremmo mettere no si nasconde qua quindi niente qui è nascosta qui si vede bene mi piacerebbe mettere una qua ma non c'è possibilità di mettere niente qua c'è un vuoto allora la mettiamo ma mi ha spostato una pallina di denti dov'era la mettiamo qua candelata per me la foto per terra perché cosa sta succedendo era qui vero vabbè la mettiamo qua questa me l'ha messa per te ma me le prende da qui me le appoggio di lì vabbè allora uno qua in alto bellissima bellissima poi ecco l'ultima allora abbiamo messo lì una là una anche qua dove manca un'altra candelina qua sono troppo tutto appiccicato quindi direi anche di no in alto si potrebbe mettere una bella candela ma noi abbiamo nostro abbiamo nostra punta qui qualcosa anche qua giù però non deve essere nascosto da mettiamo qua ok bello bellissimo mi dispiace un po' che lì verso la punta sia un po' vuoto però non ce le faceva mettere quindi va bene così abbiamo finito le decorazioni se non sbaglio ok la mattina c'è il gallo che canta allora andiamo a mettere la punta che è qui sopra bello le candele non si accendono probabilmente per non dar fuoco tutto allora adesso mettiamo giù i regali c'è una parte dove potevamo pensare di fare una parte meno decorata sotto per metterci i regali ma va bene lo stesso allora io direi di metterli qui davanti in bella vista sperando che nessuno venga a rubarceli no scherzo non è possibile che ce li rubino questo bellissimo gioco allora questo lo mettiamo qua perché è proprio grande bella poi mettiamo quello rosso qui può mettere un po' più in cuocchia allora così ma si potrebbe mettere che bello si potrebbero mettere anche sopra la cassa non sarebbe male effettivamente però ce ne stanno solo due no allora non mi piace allora li mettiamo un po' così questo lo mettiamo qua e questo se ci sta qui volentieri vediamo come stanno così non male molto carino così secondo me molto molto carino mi piace se riesco a raccattare altri regali magari ne aggiungo perché anche così comunque ci sono solo io che abito qua e quindi sono anche già troppi regali e ti mostro la casa se senti un suono di sottofondo al computer e spero che non dia fastidio ma non dà fastidio ma sia un white noise un rumore bianco vabbè c'è il solito laghetto che non posso spostare qui ho appunto messo gli alberi e questi sono dei barili che producono le conserve qua c'è il bagno di shellac è il bagno di shellac questo questo l'ho vinto una fiera praticamente vedi ti puoi fare le foto è utilissima utilissima e vabbè qua forse era uguale a prima sì vabbè dai andiamo a vedere dentro ovviamente le zucche le lascio quelle di Halloween allora qui abbiamo il soggiorno con queste decorazioni e ho messo questa parete dove l'ho messa anche fuori che sembra appunto che sia dentro un bosco con le foglie che cadono bellissimo molto rilassante secondo me qui c'è questa zucca di Halloween queste decorazioni che un po' ho vinto un po' ho fatto e anche quella vedi quei trofei di caccia eh lo so chi l'avrebbe mai detto e e così insomma anche lì ci sono altri trofei di altre missioni anche lì posso aggiungere qualcosa perché sta libreria alcuni libri c'erano 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 altri li ho aggiunti io stessa cosa anche lì c'erano a me in sola vuota che dove potrei aggiungere qualcosa sopra poi ho cambiato avevo di qua la stanza e di qua la cucina invece siccome è venuto inverno poi per la cucina ho bisogno di più spazio ho fatto di qua la camera da letto così ho il caminetto che mi scalda è tutto studiato nei minimi dettagli quindi questa è la mia camera da letto molto gotica però allo stesso tempo un po' wiki e cosa è successo a quel cosa c'era in quello skateboard che è successo mi dice è bugato lo skateboard non dovrebbe stare così è bugato ma beh in teoria non dovrebbe stare così però si è bugato quindi mi esce dall'altra parte e vabbè in realtà dovrebbe stare appoggiato al muro quindi perpendicolarmente non incastrato tra una parete e l'altra però ogni tanto si bug vabbè non importa e qua c'è questo se pare per cambiarsi ci possiamo cambiare i vestiti però adesso è inverno quindi mi tengo la felpa e gli stivali perché ho freddo anche sul giochio perché mi immedesimo quindi qua abbiamo il nostro bel caminetto con il tè che se vuoi ne mi posso bere un po' di sana calda e ne vado a letto e poi di qua c'è il bagno con la vasca da bagno che si può anche accendere l'acqua calda ovviamente per fare un bel bagno caldo spegniamola che se non serve anche qua si può accendere l'acqua e con molti fiori profumati poi abbiamo anche il water nero ovviamente ovviamente poi qua abbiamo un mega specchio però non è che funzioni tantissimo ma non importa e siccome su bagno non ci sono le porte però voglio dividere il bagno dai ho messo questo se pare così poi di qua il pezzo forte della mia casa che è la mia cucina infatti qua c'è la sala da pranzo tra virgolette sala perché è un open space e qua ho messo appunto il tavolo con il pane e alcune cose da mangiare e di così insomma vedrò se voglio farlo più grande ma siccome sono da sola non c'è bisogno di tante cose basta un tavolino due sedie e via poi comprerò anche un nuovo arredamento sicuramente per la cucina perché è la stanza che preferisco al momento ho dovuto comprare due forni e anche altri vedi doppi di questi e di quegli altri perché sennò non ti fa alcune ricette e quindi ho deciso dato che per fare per cucinare alcune ricette ci vogliono tante attrezzature di fare la stanza più grande con la cucina e qua c'è anche vedi della carne volendo da mangiare c'è per rimangiarla e qua infatti vorrei non lo lascio così pian piano aggiungerò altre tipo una cucina di un ristorante quindi anche qua altre cose qua altri tavoli altri tavoli da preparazione in base a quando le ricette avranno bisogno di più oggetti per crearle insomma adesso qua la cucina vedrò ancora come sicuramente ci sarà da aggiungere altro altrimenti potrei mettere un bel tavolo da pranzo qui più grande crearne uno più grande e mettere tanto cibo tante cose adesso devo un attimo ancora riflettere sull'arretamento della cucina però comunque resterà adesso in questa stanza grande e poi qua mi piace perché in questi ripiani si possono mettere cose c'è il cibo che io creo che poi posso mangiare invece di tenerlo dentro a agli scrigni qua dove si mettono gli oggetti questi qua in questi depositi invece di metterlo qua che in realtà qui ce n'è insomma anche c'è qualcosa li posso anche riporre qui nella cucina nella mia dispensa e poi all'occorrenza posso prenderli e mangiarli questa cosa mi piace perché lo rende proprio così vero no anche se in realtà quelle osteriche fumanti così dovrebbero essere già marce perché le appoggiate lì non so quanto tempo fa ma non importa anche c'è una zuppa però ho visto ho notato che non tutti gli alimenti te li fa appoggiare solo alcuni quelli più elaborati non lo so perché comunque sono anche da esposizione tipo il sushi della carne i pasticcini guarda che carina nei minimi dettagli tutto perfetto e quindi questo è il passaforio della cucina poi non so fammi sapere se che altra stanza potrei costruire perché comunque volendo i soldi li ho messi da parte e possiamo anche abbiamo anche lo spazio per realizzare altre stanze però essendo da sola io lo sai che sono molto anche nella vita reale le cose basic dopo superfluo non mi interessa quindi sto realistica anche nel gioco ho visto gente che si è fatto 4.000 stanze con niente dentro a me non piace preferisco avere 4 stanze in tutto ma perfette per me e insomma questo è quanto mi piace tutto mi piace tutto fino adesso di quello che ho costruito e come l'ho costruito soprattutto la cucina mi piace tantissimo però appunto ero indecisa se fare una mega tavolata coppina di cibo per fingere che invito qualcuno a mangiare lì però vabbè spero che questo video ti sia piaciuto io ti auguro buonanotte o relax ciao creatura ciao 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 Grazie.